So che abbiamo capito come leggere il gatto e quindi dire ok questa cosa ti può piacere, questa cosa ti spaventa, questa cosa ti fa arrabbiare o ti incuriosisce, andiamo a vedere come possiamo insegnargli ad utilizzare la pettorena, come fa il gatto a imparare da noi e quindi quali sono le sue capacità cognitive. Il gatto ha delle abilità cognitive come noi che servono a elaborare le informazioni, quindi io imparo, imparo che ad esempio se tocco una pallina con la mano questa rotola, imparo che se la prendo in bocca la posso spostare per la casa e io rifletto e dico ok posso usare la mano e la bocca per diciamo così giocare con un oggetto e spostarlo con la mano oppure posso usare la bocca, posso utilizzare mano e bocca in due situazioni diverse. Quindi mettere insieme, legare le informazioni è un meccanismo fondamentale per l'apprendimento e per imparare bisogna essere attenti perché in questo modo i dettagli io riesco ben a catturarli, devo comprendere quello che mi viene mostrato perché se io non lo comprendo non ci capisco niente, devo mettere le informazioni nella memoria poi tirare fuori quando mi servono. Questi sono i meccanismi necessari all'apprendimento. Il gatto è capace di riconoscere quello che noi stiamo provando. Come fa? Lo fa attraverso la lettura dei muscoli del nostro volto perché con i muscoli del nostro volto noi mostriamo le emozioni che proviamo. Se siamo felici sorridiamo, abbiamo questa facces che è la facces della felicità, se siamo tristi abbiamo un'espressione tutta cadente degli occhi di tutta la muscolatura, se siamo arrabbiati siamo corrucciati, se siamo invece impauriti abbiamo, siamo occhi spalancati e così via. Quindi il gatto ha imparato nel corso del tempo che ha vissuto, che ha passato con noi a leggere le nostre emozioni, anche dal tono della voce, perché se noi siamo contenti abbiamo un tipo di voce, se noi siamo arrabbiati abbiamo una voce più dura e se siamo un po' di solito abbiamo una voce più acuta. Il gatto poi è anche capace quando si trova in difficoltà, quindi quando non sa bene che cosa fare se c'è ad esempio un oggetto nuovo in casa, il gatto ci guarda per capire che cosa ne pensiamo noi, cioè dice ma a loro piace o non piace, hanno paura o non hanno paura e vedremo che il gatto è anche capace di seguire le nostre indicazioni quando si trova in difficoltà, se ha con noi una buona relazione, vuol dire che si fida e si affida a noi. Il gatto è capace come un bambino di avere quello che si chiama permanenza dell'oggetto. Cosa significa? Significa che io, come vedete in questa immagine che poi vedremo essere un video, ho un asciugamano e una pallina. Io metto la pallina sul tavolo, la pallina è lì presente, metto l'asciugamano sopra la pallina, magia, la pallina non c'è più. La pallina è ancora lì e si chiama test della permanenza dell'oggetto, cioè il bambino fino a due anni pensa, perché mancano dei circuiti cognitivi, che la pallina sia sparita. Il bambino invece sopra i due anni di età invece si rende conto che la pallina non è sparita, ma è soltanto nascosta. Questo è un test che è stato fatto da Piaget, vedete che siamo negli anni 50 e qui vedete nel video la bimba che nonostante la persona che fa il test abbia nascosto l'oggetto sotto la coperta, il bimba riesce a provarlo perché dice ma è lì. Se invece complichiamo le cose perché l'oggetto viene nascosto da prima sotto il primo telo e poi sotto il secondo telo, il bimbo non ce la fa, dipende dall'età, non riesce a seguire questo spostamento. Qua invece, come vediamo, queste sono video tratti da internet, la bambina è riuscita assolutamente a gestire questo compito. Invece, per quanto riguarda il bimbo, il bimbo non ha colto questo secondo spostamento realizzato dallo sperimentatore e quindi di conseguenza lo cerca sotto il primo telo. Per il gatto tutto ciò è abbastanza semplice perché il gatto è un animale che caccia e caccia in tana e se il topo entra da una parte e io non lo vedo più, il gatto prima di tutto lo sente attraverso gli ultrasuoni ma poi deve sapere che questo topo, anche se non lo sente, è entrato lì e sarà all'interno e non è sparito. Quindi il gatto è assolutamente molto performante, molto capace perché si costruisce nella mente quella che si chiama rappresentazione cognitiva, come se facesse una fotografia dell'oggetto e dice non lo vedo ma so che c'è e questi sono dei test che sono fatti con del cibo che viene messo in una scatola e viene poi nascosta dietro uno schermo. Quindi il gatto non è che dice la scatola non c'è più, il gatto dice la scatola è dietro lo schermo, quindi io lo so che è lì. Il gatto è anche capace di seguire l'indicazione del nostro dito che si chiama pointing, cioè l'uomo poiché muove le ditina è una delle poche specie insieme ad alcuni primati non umani che fanno pointing, ovvero indicano guarda lì, vedi qua questo oggetto, questa cosa e il gatto è capace di seguire questa indicazione fatta con il dito. Ci sono poi dei test che la complicano molto, quindi la fanno anche con la mano aperta, la fanno con il gomito, la fanno con la gamba, la fanno con il piede, con il ginocchio, quindi si può fare pointing in tanti modi, anche solo guardando un oggetto che è il pointing con gli occhi, il gatto è assolutamente capace di seguire questa nostra indicazione, anche se fa fatica rispetto al cane a trasmettere un'informazione. Cosa vuol dire? Qui si sono testa che vengono fatti a cani e gatti per capire, per capirli meglio, e il cane è capace di, in una situazione di test, dove ha scoperto dove il primo sperimentatore ha nascosto il cibo, entra il secondo sperimentatore e il cane lo porta dove c'è il cibo e gli dice va che lì non fa pointing col dito ma lo fa col viso, lo fa con gli occhi, abbaia, si mette davanti. Il gatto fa un po' fatica, ma probabilmente perché noi non siamo ancora così capaci di o spiegargli questo test e quindi non è, non ha ben capito cosa deve fare, oppure non siamo così capaci di leggerlo in modo tale che noi e lui ci trasmetta l'informazione. Più il gatto è capace di riferirsi a noi. Il riferimento sociale è quello che hanno i bambini dopo dieci mesi di età in cui quando il bambino si trova magari gattona, inizia a camminare e c'è uno scalino, guarda la mamma per dire cosa devo fare e la mamma gli dice oh no 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 no, è pericoloso, è pericoloso e quindi il bambino si ferma oppure vai vai tranquillo che ti accompagno, va tutto bene. Quindi il bambino con lo sguardo cerca delle informazioni dal genitore e il genitore a seconda di quello che gli dice il bambino segue le informazioni che gli vengono fornite. Questo test è stato fatto anche nei gatti. Hanno utilizzato un oggetto che hanno chiamato l'oggetto che fa spavento, che è un ventilatore con questi nastrini verdi e il gatto insieme al proprietario erano in questa stanza test, il ventilatore viene fatto partire e la maggior parte dei gatti guarda il referente per dire oh cos'è quella roba lì? E se il referente gli dice che bello ma guarda questo oggetto, si avvicina, tocca l'oggetto, glielo mostra, il gatto segue le indicazioni. C'è il referente, dice che paura, che brutto e si sposta nell'altro angolo della stanza, il gatto segue le indicazioni del referente. Quindi il gatto è capace di seguire ciò che noi gli stiamo dicendo, se si affida a noi. Non solo, il gatto è capace di riconoscere la nostra voce, quindi un audio, rispetto alla voce di altre persone. Quindi sempre situazione di testa in cui c'è la voce della persona che vive col gatto che parla e il gatto dedica molto più tempo di interesse a questa voce rispetto a quella di altre persone sconosciute. Quindi è capace di riconoscere la voce della persona con cui vive e di prestare molta attenzione a ciò che la persona sta dicendo. E ancora il gatto è capace, e qui attraverso un video, video e audio, di riconoscere, come vi dicevo, le nostre emozioni. Di fronte al referente, quindi la persona con cui vive, o a un estraneo che mostrano con il viso e con il tono della voce la felicità o la rabbia, il gatto preferisce passare del tempo vicino al referente, cioè alla persona con cui vive, che è felice. Dice, oh io sto bene così, riconosco che tu sei felice, piace stare vicino a te. Quando invece siamo arrabbiati, il gatto tendenzialmente, come tutti i membri della famiglia, prende e se ne va lontano. Sembra che questa capacità del gatto, come vi dicevo all'inizio del nostro appuntamento, non sia legata soltanto al fatto che l'abbiamo addomesticato, ma c'è di più al fatto che il gatto è diventato un nostro partner sociale e molto probabilmente anche il gatto, così come il cane è capace di svolgere delle attività, si chiamano collaborative, il cane è stato addomesticato non solo perché ci piaceva, ma anche per cacciare insieme a noi. È indubbio che noi non cacciavamo con il gatto, perché il gatto è piccino per poter fare ciò, però molto probabilmente, e vedremo, anche noi facevamo delle, tanto, tanti e tanti mila anni fa, facevamo delle altre attività con il gatto che non ci sono arrivate nella storia, ma che probabilmente l'hanno portato ad essere quello che è oggi, cioè un membro della famiglia a tutti gli effetti. Il gatto è anche capace di avere una, si chiama rappresentazione visuo-spaziale, cioè il gatto nel buio utilizza l'udito per tracciare la posizione della persona che vive con lui che in quel momento è invisibile. Quindi è capace di sapere se si trova a sinistra, al centro, a destra e esattamente identificarne la posizione. Quindi ha una grande capacità, anche se in quel momento non ci vede. Se noi lo chiamiamo e lui non è a vista, anche se siamo in un posto che lui conosce poco, sa con precisione dove ci troviamo. Questo è fondamentale perché il gatto è un predatore crepuscolare, che quindi non agisce in luce piena, ma agisce di solito all'alba e al tramonto, quindi quando la luce è più fiocca e di conseguenza deve avere una capacità di identificare, tra virgolette, dove si trova la sua preda o dove si trova un cane che abbaia o dove si trova un pericolo anche in condizioni di scarsa luminosità.